Che cos'è Comfort Wash 360? E' il sistema definitivo per il lavaggio dei propri animali domestici. Comfort Wash 360 è disponibile in due dimensioni. Per animali di piccola o media taia, o per i grandi amici a quattro zampe. Il set Comfort Wash 360 comprende il kit di lavaggio studiato appositamente anche per il lavaggio in casa. E inoltre ci saranno due omaggi. Un tubo di acqua estendibile fino a 3 metri. E l'indispensabile guanto in microfibra. Comfort Wash 360 è anche ottimo per la shampoo therapy che ormai è diffuso soprattutto nel trattamento dei cani con problemi dermici e del mento. Tanto che è un vantaggio eseguire le terapie senza toccare gli animali, senza sfregamento. Comfort Wash 360 ha un getto di acqua localizzato che aiuta a prevenire le pericolose otite. Comfort Wash 360 richiede altri vantaggi. Innanzitutto si può usare sia con acqua calda che con acqua fredda. In giardino, ma soprattutto in casa. Perché impedisce schizzi di acqua. Ordena Comfort Wash 360 oggi per soli 24,90 euro. Più spese di spedizione. Non perdere l'occasione di regolare al tuo amico a quattro zampe la migliore soluzione per l'higiene domestico. Anche di inverno. Comfort Wash 360. Happy to clean. Grazie a tutti.